Gli italiani a Ottava e in Canada in generale veramente hanno fatto grande questo paese perché sono stati un esempio di onestà, rettitudine, sono persone che hanno lavorato duramente quando sono arrivati ovviamente non sono stati proprio molto ben accolti, la storia ce lo insegna sono stati anche sparsi un po' per il Canada senza che loro esattamente sapessero dove stavano andando e dove venivano dislocati, però si sono sempre fatti valere e quindi devo dire che sono molto orgogliosa di questo mio incarico e non scordiamoci che la popolazione in Canada, gli italo-canadesi hanno contribuito fortemente quando ci fu il terremoto, l'ultimo terremoto in Abruzzo e il senatore Loffreda andò personalmente a consegnare i fondi che erano stati raccolti, quindi veramente agli italiani in Canada, chapeau. Grazie.